a foto altamente simbolica ritrae guardate un po mario draghi non lo vedete è perché laggiù in fondo in fila per il vaccino a cui si è sottoposto questa mattina nel centro vaccinale della stazione termini di roma un buon esempio al suo fianco vedete la moglie e gli agenti di scorta un'altra notizia